Buongiorno persone e benvenute in un nuovo video di Vegano Oggi ho deciso di mostrarvi com'è la situa quando filmo Sarà una giornata intensa perchè dovrò filmare tipo un sacco di cose Ho una ricetta nel forno, vabbè mi sono svegliata, non ho fatto colazione, ho portato fuori l'una Oggi qui piove e nel frattempo mi sto portando avanti mentre una è nel forno con la seconda Devo dire, adesso vabbè girerò la videocamera e vi farò vedere un po' la situa qui in giro Sono stata abbastanza ordinata ma adesso vi racconterò che cosa è successo Saprete, le persone che guarderanno questo video sapranno che cosa bisogna fare ogni tanto quando si filma una ricetta Qui non c'è neanche tanto delirio perchè ho appena finito di mettere questa roba nella lavastoviglie Che credo, non lo so, potrebbe aver finito comunque a breve Qui fa tutto schifo però devo dire, bene, potrebbe andare il peggio, di solito va anche peggio Qui c'è del tofu che dovrà essere passato in padella con questa salsa e qui arriva il fanfatio Adesso vi racconto questo mio cabellino di quando mi devo sedere, oh morta, qui a fare le cose Praticamente cosa è successo? Qualche giorno fa ho filmato questa ricetta del tofu orientale Adesso non so se su Instagram l'avrete già vista oppure uscirà fra un po' Comunque uscirà questa ricetta, o è uscita questa ricetta del tofu orientale con delle verdure saltate L'avevo filmata tutto molto bene, tutto ok Finchè ad un certo punto vado per editarla e mi rendo conto che non avevo passato i file sul computer È già molto male, perchè di solito cerco di passarli quasi subito sul pc Così da avere la memory card della macchina libera E cioè non libera perchè comunque c'è, mi dirà delle idee lì dentro Però comunque vado a passare questi file e non mi rendo conto che mancano tipo Quattro clip, che sono esattamente le clip che sto registrando adesso, ovvero di come preparo il tofu e la salsina Perché ci sono le clip delle verdure e del piatto finito, lol E anche del mio intro, cioè di me che ve lo presento Quindi ho, non so, credo di aver eliminato in qualche modo queste clip di mezzo Amazing, benissimo In questo periodo sono giusto un filo ma poco poco, poco poco esaurita e piena di cose da fare, madonna Piena Comunque ho pensato di tornare anche su YouTube considerando che dicembre potrebbe essere carino portare qualche contenuto in più Considerando che comunque vedrete e state vedendo più shorts Quindi vedrete comunque più shorts Vi faccio vedere come la situa della macchina fotografica, così vi faccio vedere proprio del backstage Lì c'è Cana che sollecchia E qui c'è la situa Praticamente questa inquadratura non ha senso adesso però di solito me lo sposto in giro Sto aspettando di prenderne un secondo, me lo sistemo E adesso, beh, vi faccio vedere tipo un'inquadratura tipo Con questo procedimento probabilmente faremo questo Devo spostare l'agenda di Viola È lì, ve la farò vedere su Instagram Adesso, una volta deciso l'angolo che è questo qui Quello che faccio è spostare degli elementi del set che voglio che si vedano lì Quindi prima scelgo l'angolo e poi creo le cose intorno Non vado a caso, quindi a questo punto sappiamo che si vede questo Ma ecco, girato così va meglio L'agenda di Viola la spostiamo di qua così non si vede nella clip Magari anche questo troppo della macchina fotografica non ci serve Ecco, quindi questo carino Qua ci sono delle pignette Sì, comunque è giusto un filo sporco, eh raga Tutto gran bene Questo non si vedrà ma magari ecco Un po' di pignetta così Facciamo un check di nuovo Olè, meglio Vedete già la differenza della situa? Ecco Che poi, non è che dici tu è sostanziale Però, un po' di candelina qui Un po' di angolo qui Un po' di pignetta perché c'è un po' c'è qua Non è male Questo ci piace E poi farò probabilmente un close up quando starà sfrigolando Nel frattempo controlliamo la ricetta che ho in forno Perché non vogliamo bruciarne una mentre l'altra Insomma, mentre faccio questo video Questo è un altro deal che vedrete a breve sul canale Sono le alette di tofu in salsa buffalo Qui sul canale le avete già viste ma col tofu fatto in maniera diversa Che richiede più tempo Queste diciamo sono la versione semplice Perché non già sbatta Non so quanto siano sexy da qui ma vi posso dire che sono pazzesca Ok, this is the moment in cui registro questa clip Così, questa l'ho finita e me la sono portata a casa con le clip che mi mancavano Perché ho erroneamente cancellato? L'altra è finita Quindi faccio questo Metto le ciglia finte Faccio l'intro di quello E per ora ci siamo Perché vi ho fatto questo assunto? Lo vedrete Non che vedrete perché ho fatto questo assunto Nel senso che vedrete le cose che vi ho appena detto LOL E raga, oltre ad essere classato questo è anche super crunchy Adesso abbiamo fatto qualche close up Cioè in quadratura da vicino A le alette in teglia Giusto per dare un po' di quella sensazione di bello oliato Come piace a noi Ne faccio un altro bio E poi lo impiatto Per impiattarlo torno in camera fissa Adesso non so ancora se questa è l'inquadratura che voglio tenere Però inizio a sistemare qui la situa Quindi via questo Via fornello Che chiaramente non sta lì tutto il tempo Lo utilizzo Cioè lo utilizzo quando mi serve Ho giudicato Ora si deve riposizionare la situa Che non va più bene come era prima Lo mettiamo qua Qua Yes E un po' di pigna This is la situa Quello che si vede è un microscopico questo Cioè non si vede nient'altro del resto E che ho fatto? Much better Adesso vado a prepararmi E facciamo l'intro E poi Ho finito Più tardi ho intenzione di Non cambiare colore Ma Darò una rinfrescata E non darò una rinfrescata All'alpine green Che è quello che ho fatto l'ultima volta Adesso sono praticamente azzurri E Non era quello che volevo Non mi piacciono così Oltre al fatto che Questo è voluto Nel senso che Volevo un colore scuro Da Da tenere giù Che stesse bene con la mia ricrescita Considerando che i capelli sono distrutti Però raga Posso dire Non mi piace questo azzurrino Quindi mia intenzione adesso Avevo due confezioni di Atlantic Blue Che è un blu più scuro L'ho fatto un paio di anni fa E quindi probabilmente farò quello su tutta la testa Qui Prenderà giusto un riflesso E questi dovrebbero essere però più scuri Che già posso dire Preferirei Questa è la parte finale Nel quale registro l'intro E qui è dove Tutte le dosi sono qui sotto in descrizione Un po' raffreddone Un po' Un parole Adesso sapete che quando Registro questa parte Sono praticamente Piegata sul tavolo Finito Ok ho finito di filmare Ho tutte le sigla finte Perché adesso voglio fare Ah io Voglio fare la tinta E non sto comodissima Facendola con quello Quindi Non so Tengo questa Se la macchio Vabbè se la macchio di bruno Non si vede Da più scuro Ma Però potremmo Acchiare la scritta Beh Tengo quella Nera che ho giù Nel v Ecco fatto Adesso Sistemiamo questa tragedia Che forse non è così Tragedia però First step Guanti Come al solito Comunque vabbè Già che ci sono andato In questo momento Aspettate che chiudo la porta Perché mi sa che sono sentite La lavatrice Che domenica sto facendo Tutte le robe di casa Eccomi Dicevo Che già che ci siamo Mentre faccio Sta roba vi racconto un po' Nell'ultimo periodo Sono stata piena 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 Perché sto girando Un paio di ricette Per il canale di Per Eura Con me Come Eura Non come Vederock E quindi tipo Vabbè Senza la mia faccina Senza sta roba Però comunque Sono quattro ricette Che sto Realizzando Filmando Editando E postando Il mio lavoro con Eura In più Sto preparando Una rodina Che uscirà Per voi Su Instagram Quindi Vi consiglio di scrivermi Di là Se non lo fate Per esempio Mi porto avanti Quindi cosa succede? Succede che La prossima settimana Più o meno Uscirà Una roba Utile per voi Per Natale L'unico indizio Che vi do È che diciamo Che è una di quelle robe In cui Se voi fate una cosa per me Io faccio una cosa per voi E quindi Niente Vi dico solo Vi dico solo che Non sarà gratuito Non mi costerà Nulla Ma soltanto Delle azioni Di supporto Nei miei confronti Ma avrete Un interno Natalizio Quindi sto facendo questo In più Mi sto portando avanti Con i reel Per le prossime settimane Perché poi Prima di Natale Scenderò in Carabria In tutto ciò Vabbè Per esempio Iniziamo Se no ci metto 200 anni Il colore È questo È Atlantic Lou Della Direction Devo rendere Tutto più scuro Quindi me ne sto Anche con un riflesso Ma sapete che forse Non ci ho sbatto Di usare il pennello oggi Ok Allora vi dicevo Quindi insomma Quando scenderò in Carabria Non avrò voglia Di filmare Probabilmente Perché non avrò Tutte le mie cosine comode Posso sempre filmare Magari Che ne so Vi faccio vedere Se vi interessa Potrei farvi vedere Che cosa Vado durante il giorno Di Natale Ecco cose di questo genere Potrei anche fare un vlog Qui per Contenuti di questo tipo Quello no prob Però ecco Per il resto Tipo Che ne so Le ricette Così Preferisco Essere organizzata Già da qui Più che altro Onestamente Oltre questo Ci sta che io voglia godermi un po' La mia famiglia E non voglia Filmare Per esempio Oppure filmare Sì ma con Con meno Non meno impegno Però meno macchinosità Ecco Perché ci sono alcune robe Che per voi sono Tipo sempre 66 anni Ma che mi chiedono Un tot di lavoro Tipo tantissimo E quindi quella È una situa Comunque Allora Il colore È abbastanza scuro Un nose Vabbè secondo me Sono soddisfatta Perché di base Non è un'altra scura Quindi insomma raga Questa è la situa Contenuti adesso Fra un pochino Sto utilizzando Per filmare Perché non lo so Sto provando diversi setting In diverse cose Ultimamente E devo dire Che così Con la luce Non mi trovo male Cioè Not bad Per niente Però adesso Il L'anno a doppio taglio Che dovrò mettere in pausa Un secondo Il video Perché voglio girare Un pezzo di un reel Ho fatto tutto Tutto Ho filmato le clip Che mi servivano Per il reel Ho fatto dei bei tatuaggi Qui tutto intorno Come al solito Questi sono finiti Adesso voglio toccarmi Sono chiaro anche le mani Genio Genio Del male Ho coperto tutto Per evitare di fare Grandanni E niente raga Cioè Credo andrò A sdraiarmi sul divano O passare un po' Di domenica pomeriggio Tranqui Sul divano Magari guardo qualcosa Vediamo Lavato i capellini Ve l'ho detto Questo giro Non è Un video capelli Quindi non c'è Re via Li scopriamo insieme Mentre li asciugo Anche perché poi Devo truccarmi E uscire Con un amico Cosa ho fatto qui E andremo Ad una mostra fotografica Se non erano Comunque Sì raga Questo ce l'ho Penso dal liceo Da quando facevo piscina Credo me l'abbia comprato La mia nonnina Raga No Non è successo nulla Di quello che avevo immaginato Perché In tutto ciò Ho il ciclo Che mi ha presa Schiaffi forte E quindi Vabbè Facciamo che questo video Magari lo faccio finire domani Così vedete Questo sito È un po' Tutta carina Ho sentito Quando è La fine di Rapunzel Quando il ciclo Guardo i cartoni Raga Cioè c'è poco da fare Ancora un po' Mi sa che mi metterò a cenare Magari vi faccio vedere la cena E poi Mi do il bacino Della buonanotte dopo Questa è la mia cena Praticamente ho utilizzato Il tofu Che ho grassato oggi Con dei cavoli Che mi erano rimasti E una patata bollita Che mi era rimasta Da una ricetta che avevo ieri E qui di fianco Cioè mixiamo anche due culture Ho un burrito E qui dentro Anche sono recuperi Di due ricette Che ho firmato ieri Welcome to my life Raga Questa è la mia vita Fuori dagli schermi Mangio Le ricette In salse diverse Però ho tutto buono Devo dire E adesso Metto in play Ralf Spacca internet L'ho già visto Ma è sempre carino Raga Buongiorno Mi sono già portata avanti Con tutta la situa Perché oggi devo fare Un sacco di cose E in realtà ho già fatto Tipo due ore di lavoro Stamattina Questo è il momento In cui tipo Pranzo Faccio questo Ho registrato La seconda parte Del tiktok Adesso lo pubblicherò Di là Nel frattempo Vabbè Posso dirvi anche qua Che sono pazzeschi Mi piacciono da morire Non è stato un cambio Sostanziale Perché sono rimasta Praticamente là Sono soltanto più scuri Ma mi piacciono da morire Mi piacciono veramente un sacco Però trovo che si sposi Ancora meglio Mi piace molto A questo punto raga Vi ringrazio tantissimo Per aver guardato questo video Spero Non lo so Vi sia interessato Sperimentiamo cose insieme Vi auguro Una fantastica giornata Vi ricordo Che se volete sostenere il canale Potete iscrivervi Leccando sul basaltino Iscriviti qui sotto Che probabilmente Sanno totalmente Dall'altro lato Rispetto a quello che ho indicato Come sempre Sono due anni Ma è sempre la stessa storia Sono ancora raffreddata In tutto ciò Rendetevi conto Vi ricordo anche Che se volete seguirmi Sugli altri social In descrizione Trovate tutti i link Lì pubblico Ricette Tutti i giorni Queste cose Insomma qua Contenuti extra Tutto un po' così Se volete restare Aggiornati Aggiornati E aggiornato A 360 gradi Quello Quelli Tutti Sono i posti giusti Grazie ancora raga Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti